Tutti negativi i tamponi effettuati sui dipendenti degli uffici anagrafe e polizia municipale del comune. Buone notizie dunque quelle che arrivano da Sansepolcro dove gli uffici in piazza Gramsci da questa mattina hanno riaperto regolarmente. La chiusura e la conseguente sanificazione dei locali era scattata dopo che nei giorni scorsi gli uffici erano stati frequentati da una persona residente fuori regione poi risultata positiva il covid. La persona aveva frequentato i locali per motivi di lavoro ed era venuta in contatto con i dipendenti da qui il provvedimento precauzionale del sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli.